Fisica No Problem, problema 2, pagina 25 Esperimento satellite al guinsaglio, proposto dall'ASI Un piccolo satellite è collegato alla navetta da un cavo d'acciaio durante il moto orbitale, all'interno del campo magnetico terrestre che ha linee di forze perpendicolari al cavo Conosciamo il periodo dell'orbita, 5400 secondi e un'ora e mezza La lunghezza del cavo sono 20 km e il campo B 50 micro tesla Calcolare la FEM media indotta ai capi del cavo Si dice anche di assumere che il cavo sia sempre diretto in direzione verso il centro della Terra Vedremo infatti che in realtà il cavo tenderà a disporsi in direzione obliqua La situazione è questa, con l'orbita della sonda spaziale sul piano equatoriale della Terra e le linee del campo B, del campo magnetico terrestre che escono dal sud geografico dove si trova il nord magnetico e rientrano nel nord geografico dove si trova il sud magnetico Quindi attraversano perpendicolarmente dal basso verso l'alto l'area individuata dall'orbita della sonda spaziale Questo è il disegno visto dall'alto, questo è il polo nord geografico Queste sono le linee del campo B e questa è l'orbita della sonda che io immagino in senso anti-orario Il disegno non è in scala per una serie di motivi Intanto perché, come vedremo dopo, l'orbita della sonda è un'orbita bassa quindi è molto più vicina alla superficie terrestre di come è disegnata qua E poi il cavo 20 km è cortissimo rispetto al raggio dell'orbita e qui è disegnato invece molto più lungo Immaginiamo che la sonda inizialmente si trovasse qui Non è importante dove si trovava all'istante iniziale però giusto così per fissare le idee Immaginiamo che si trovava qui e quindi ha percorso un certo tratto in senso anti-orario, quindi questa velocità è positiva Ho chiamato V la velocità della sonda e V' la velocità del satellite al guinsaglio approssimando queste due velocità come uguali anche se in realtà vedremo dopo che il satellite tende ad andare leggermente più veloce della sonda e quindi a far inclinare il cavo in direzione obliqua Comunque la differenza delle due velocità è molto piccola quindi per adesso consideriamole uguali Per calcolare la forza elettromotrice che si stabilisce come differenza di potenziale tra A e C abbiamo due procedimenti che poi sono sempre gli stessi sono simili a quelli che abbiamo già visto negli esercizi precedenti Il primo utilizza la forza di Lorenz sui singoli portatori di carica convenzionalmente positivi che stanno nel cavo Prendiamo uno di questi portatori di carica che per esempio può essere questo qua sente il campo B che viene verso di noi questo portatore si muove verso sinistra con la velocità del cavo e quindi subisce la forza di Lorenz che è diretta verso l'alto basta applicare la seconda regola della mano destra pollice sulla velocità quindi a sinistra campo B l'indice verso di noi il medio ci dà la forza di Lorenz verso l'alto il valore di questa forza di Lorenz è QVB essendo l'angolo retto quello tra la velocità e il campo B questa forza di Lorenz spinge questi portatori verso l'alto e li fa accumulare in A quindi A si riempie di cariche positive mentre invece C qui ho sbagliato a scrivere C non è qua ma è qui sotto il satellite C si riempie di cariche negative quindi si crea questa differenza di potenziale con il potenziale più alto in A delta V uguale VA meno VC positivo come al solito interpretiamo questa forza di Lorenz come una forza elettrica Q per E quindi il campo elettromotore indotto vale VB solita formula a rigore dovrei metterci il segno negativo ma questo lo vediamo meglio dopo quindi abbiamo nel cavo un campo elettromotore indotto che va verso l'alto ma abbiamo anche un campo elettrostatico che nasce dalla differenza di potenziale cioè dall'accumulo di cariche positive e negative all'estremità del cavo come sempre questi due campi sono uguali opposti hanno lo stesso modulo VB noi dobbiamo calcolare la forza elettromotrice indotta che per definizione è il lavoro per unità di carica e sappiamo che è anche la circuitazione del campo elettromotore lungo un percorso chiuso immaginario come percorso chiuso immaginario io prendo questa linea chiusa e la oriento convenzionalmente come sempre in senso anti-orario ora è chiaro perché il campo elettromotore indotto deve avere il segno negativo perché quando io vado a percorrere in senso convenzionale positivo vado da A verso C invece il campo elettromotore indotto ha il verso opposto quindi ha segno negativo quindi quando vado a fare questa circuitazione il campo elettromotore indotto lo trovo soltanto nel filo non lo trovo nel resto del percorso chiuso e quindi questa circuitazione è semplicemente E per L con il segno meno perché il campo elettrico abbiamo detto che ha segno negativo quindi meno vb per L perché il campo elettromotore vale meno vb quindi volendo potrei anche calcolare la differenza di potenziale ma sappiamo che è uguale e opposta alla fem e quindi vale vbl comunque il valore assoluto cioè il modulo di questa differenza di potenziale è uguale alla fem vbl questo era il primo modo di calcolare la fem attraverso la forza di Lorenz che spinge queste cariche convenzionalmente positive verso l'estremità A il secondo modo di calcolare la fem è quello suggerito dal libro cioè la formula di fare dei Neumann-Henry-Lenz la fem è la rapidità di variazione del flusso magnetico cambiata di segno il flusso magnetico è quello attraverso la superficie descritta da questo cavo che si sta muovendo verso sinistra quindi la superficie è questo settore qua che abbiamo orientato in senso anti-orario il suo contorno e quindi la superficie è orientata positivamente verso di noi cioè la faccia positiva della superficie è quella che guarda verso di noi e anche B esce verso di noi quindi B e il vettore superficie S sono allineati perciò il flusso del campo B attraverso questa superficie è semplicemente BS come è scritto qua ma BS, anzi la superficie S è LL' essendo L la lunghezza del cavo e L' invece la lunghezza di questo arco che in pratica è lungo quanto quest'altro quindi questi sono due archi lunghi uguali perché il cavo in realtà è estremamente corto rispetto al raggio dell'orbita della navetta spaziale quindi questi due archi sono lunghi entrambi L' allora quest'area è come l'area di un rettangolo è il prodotto L per L' ora questo flusso noi lo dobbiamo derivare come al solito BL sono fissi L' la sua derivata è la velocità della sonda spaziale infatti la rapidità con cui varia questa lunghezza L' è la velocità della sonda L' punto è V a questo punto basta cambiare di segno alla derivata del flusso magnetico e abbiamo la Femme meno BLV ritroviamo lo stesso valore che abbiamo trovato prima la Femme è meno VBL o meno BLV che è la stessa cosa questa è la Femme calcolata con i due metodi la forza di Lorenz oppure la legge di fare dei Neumann-Henry-Lenz in teoria il problema sarebbe concluso basta sostituire i valori del campo B l'induzione magnetica la lunghezza di 20 km del filo e la velocità orbitale della sonda spaziale a questo punto però il problema è che noi non abbiamo questa velocità orbitale ma abbiamo soltanto il periodo di rotazione che è di un'ora e mezza quindi dobbiamo applicare le formule della gravitazione universale di Newton per ricavarci questa velocità che poi andremo a sostituire nella formula della Femme e calcolare quindi la Femme ricordiamo quindi le leggi della gravitazione universale la forza di gravità di Newton Gmm su R2 è la forza centripeta che trattiene in orbita la navetta spaziale questa è la legge di gravitazione universale di Newton G la costante di gravitazione universale M è la massa della Terra M piccolo è la massa della sonda spaziale e R è la distanza il raggio dell'orbita quindi la distanza dal centro della Terra invece la forza centripeta che è rivolta verso il centro cioè questa formula significa che la forza di gravità è la forza centripeta che è rivolta verso il centro della Terra e tiene in orbita circolare questa sonda la forza centripeta è la massa per l'accelerazione centripeta semplificando la massa come al solito non ha nessun ruolo quindi non ha nessuna importanza la massa della navetta non cambierebbe niente dal punto di vista dinamico se anche avesse una massa diversa e quindi possiamo calcolare la velocità però il problema è che non abbiamo la distanza dal centro della Terra cioè non conosciamo il raggio dell'orbita R che è questo allora un modo per calcolare R potrebbe essere di ripartire da questa formula gm su R uguale V alla seconda al posto della velocità metterci la formula del modo circolare uniforme 2πR fratto t quindi tutto il giro, la circonferenza diviso un periodo e ottenere così la terza legge di Keplero dopo alcuni calcoli si trova che il cubo della distanza dal centro della Terra quindi il cubo del raggio dell'orbita diviso il quadrato del periodo è una costante che è uguale per tutte le orbite per qualsiasi sia l'orbita a cui si trova questa sonda e questa costante dipende soltanto dalla massa dell'oggetto centrale in questo caso la massa della Terra dalla terza legge di Keplero conoscendo la massa della Terra potremmo ricavare il raggio dell'orbita R perché conosciamo anche il periodo di rotazione che è un'ora e mezza quindi una volta ricavato R dalla terza legge di Keplero potremmo sostituirlo qui per calcolare la velocità orbitale di questa sonda se no c'è un altro modo più rapido che è quello di esprimere la velocità orbitale in funzione della velocità angolare velocità angolare per la distanza dal centro della Terra ricaviamo il raggio orbitale con la formula inversa e questo valore lo andiamo a sostituire qui otteniamo quindi gm diviso questo quindi gm per omega su v uguale v alla seconda questo v alla seconda qua e quindi possiamo finalmente ricavare la velocità come radice cubica di gm omega omega abbiamo detto è la velocità angolare quindi è 2 pi greco radianti fratto un periodo facendo i calcoli e conoscendo il periodo viene 1,16 milli radianti al secondo una velocità angolare molto piccola praticamente un millesimo di radiante soltanto ogni secondo ricordiamo a che cosa ci serviva la velocità orbitale ci serviva per andarla a sostituire nella formula della fem perché noi dovevamo calcolare la fem nel cavo di metallo quindi ora andiamoci a calcolare questa velocità orbitale e poi la andiamo a sostituire qua v uguale gm omega alla un terzo questa è g la costante di gravitazione universale questa è la massa della Terra e questo è omega alla un terzo il risultato è 7,74 km al secondo che è un valore ragionevole perché lo sappiamo che le sonde come per esempio la stazione spaziale internazionale o lo shuttle in orbita bassa vicino alla Terra sfrecciano a velocità che sono di diversi km al secondo qui sono indicate le unità di misura del calcolo di questa velocità e alla fine viene metri al secondo vediamole newton e metri quadrati diviso chilogrammi e secondi al posto di newton chilogrammi e metro al secondo quadrato facciamo le semplificazioni viene metri cubi diviso secondi cubi esce fuori dalla radice cubica e viene metri al secondo ora finalmente che abbiamo calcolato la velocità l'andiamo a sostituire nella formula della FEM che io qui indico in modulo tanto ci interessa soltanto il valore assoluto e quindi ecco le sostituzioni la velocità il campo B e i 20 km di cavo il risultato è 7,74 kV approssimato a 7,7 kV perché c'erano dei dati iniziali del problema che avevano soltanto due cifre significative quindi anche il risultato non può averne più di due il problema è concluso abbiamo calcolato la FEM e è un valore anche importante perché stiamo parlando di diversi kV se confrontiamo con i valori di FEM degli esercizi precedenti venivano sempre dei millivolt qui siamo a molti ordini di grandezza in più e questo è dovuto non tanto al campo B che comunque è debole del campo terrestre infatti era 5 per 10 alla meno 5 Tesla ma è dovuto soprattutto alla grande velocità di movimento del cavo e alla sua grande lunghezza 20 km come approfondimenti cerchiamo innanzitutto di scoprire a quale orbita si trova questa sonda spaziale non è richiesto dal problema però giusto per vedere dove si trova facendo la formula inversa di questa formula di prima otteniamo il raggio orbitale dividendo la velocità orbitale diviso la velocità angolare e troviamo praticamente 6.660 km per capire la quota orbitale cioè non la distanza dal centro della Terra ma soltanto la distanza dalla superficie terrestre la quota orbitale H bisogna sottrarre al raggio orbitale il raggio della Terra che vale circa 6.380 km e così abbiamo una quota orbitale di circa 280 km che conferma che si tratta di un'orbita bassa cioè molto vicina alla superficie terrestre anche più vicina di come l'ho disegnata qua del resto sia la velocità orbitale che il periodo di rotazione di un'ora e mezza confermavano l'orbita bassa infatti con un po' di esperienza sono quelli i valori tipici di un'orbita di poche centinaia di chilometri al di sopra della superficie terrestre come altro piccolo approfondimento andiamo a vedere perché il cavo tende ad inclinarsi obliquamente come si vede da questa formula che abbiamo ricavato prima se riduciamo il raggio orbitale cioè la distanza dal centro della Terra la velocità aumenta questo vuol dire che se noi ci spostiamo dall'orbita di A la sonda spaziale verso l'orbita di C che è il satellite al guinsaglio quindi riduciamo R aumenta la velocità quindi il satellite ha una velocità leggermente maggiore della sonda spaziale e progressivamente tenderà a inclinarsi quindi verso sinistra man mano che il sistema navetta più satellite ruota intorno alla Terra abbiamo già calcolato la velocità della sonda spaziale A che era questo valore adesso andiamo a sostituire al posto di R il valore 6660 km meno 20 km cioè andiamo a sostituire il valore di R dove si trova il satellite per vedere qual è la velocità del satellite V' e scopriamo che la velocità del satellite è appena maggiore di quella della sonda è 1,0015 volte la velocità della sonda quindi è un 1,5 per 1000 più grande infine come ultimo richiamo ripassiamo il teorema viriale secondo cui gli oggetti in orbita attorno per esempio ad una massa centrale sono stati legati quindi innanzitutto hanno un'energia cinetica minore dell'energia potenziale gravitazionale in modulo in modulo perché l'energia potenziale gravitazionale è negativa però l'energia cinetica è minore altrimenti se l'energia cinetica fosse maggiore del modulo dell'energia potenziale gravitazionale la sonda l'oggetto orbitante avrebbe una grande velocità una grande energia cinetica che gli consentirebbe di slegarsi e quindi di fuggire all'infinito a distanza infinita descrivendo delle orbite delle coniche aperte invece qua l'orbita è una circonferenza quindi vuol dire che lo stato è legato e quindi vuol dire che l'oggetto orbitante non va così veloce da slegarsi il teorema viriale ci dice che l'energia cinetica è esattamente la metà dell'energia potenziale gravitazionale in modulo e infatti questo torna perché l'energia cinetica è questa espressione qui l'energia potenziale gravitazionale avrebbe il segno meno però in modulo è questa espressione qua e alla fine si ritrova la formula che lega la velocità al raggio orbitale cioè si ritrova questa formula qui prima l'avevamo ricavata dall'uguaglianza tra la forza gravitazionale e la forza centripeta cioè dall'uguaglianza di queste due forze che coincidono e ora la stessa formula l'abbiamo ricavata dal teorema viriale